ciao ragazzi sono chris e benvenuti nel mio canale oggi parliamo di giardinaggio e di un altro utensile delle ego power in questo video vediamo il tagliasiepi modello ht6500e un tagliasiepi alimentato da una batteria da 56 volt la batteria arc lithium di ego e con la stessa batteria potete alimentare tutta la linea ego power con motore brushless lunghezza della lama di 65 cm e capacità di taglio di 33 mm con la lama a doppio effetto che si muovono tutte e due le lame però tutte queste caratteristiche le vedremo meglio più avanti anche perché ci sono altre cose simpatiche da vedere di questo tagliasiepi per quanto riguarda il prezzo questo tagliasiepi senza batteria e senza carica batteria quindi solo la macchina venduta 309 euro ed è distribuito da brumar in circa 700 rivenditori specializzati in italia molti di questi rivenditori hanno anche il sito online dove è possibile acquistare comodamente a casa vostra ed alcuni di questi vendono anche tramite amazon che vi semplifica ulteriormente l'acquisto in ogni caso vi lascerò un link ufficiale del sito brumar che vi permetterà di trovare il rivenditore più vicino a casa vostra così potete andarlo a vedere di presenza e a toccarlo con mano questo ragazzi è il secondo attrezzo della ego power che provo e già trovate nel canale il video di un decespugliatore molto potente peraltro che sto utilizzando in continuazione e che veramente mi ha fatto dimenticare tutte le noie legate all'utilizzo hobbistico nel mio caso di un decespugliatore a scoppio quindi non mi voglio annoiare dicendovi quali sono tutti i vantaggi dell'utilizzo di un utensile a batteria rispetto dell'equivalente a scoppio perché se già avete visto quel video sicuramente avete compreso le ragioni che mi stanno portando a scegliere questo tipo di attrezzatura però se non avete visto quel video per chi entra per la prima volta nel canale vede questo video vi faccio una brevissima sintesi 60 secondi solamente non avendo motore a scoppio un tagliasiepe alimentato a batteria non fa rumore se non quello meccanico che si sente le lame sfrecare tra di loro ma non c'è il rumore classico del motore a scoppio e questo ci dà la possibilità di poter lavorare quasi quasi in qualsiasi orario inoltre non fa puzza perché non ci sono i gas di scarico e non emette nessuna vibrazione aggiuntiva a quello del movimento diciamo della parte tagliente il motore a scoppio produce parecchie vibrazioni e dopo un determinato ore di lavoro potrebbe causare quel classico problema del formicolio un attrezzo a batteria ci consente di lavorare come ho detto prima in qualsiasi ora del giorno ma senza programmazione cioè abbiamo due minuti decidiamo di fare il lavoro innestiamo la batteria e lavoriamo e non c'è bisogno di tenere la benzina in garage tenere l'olio due tempi in garage preparare la miscela perché va preparata quando si deve utilizzare e soprattutto un tagliasiepi a batteria così come tutti gli altri attrezzi a batteria non hanno bisogno di quelle fasi di pulizia post lavorazione pulizia del carburatore svuotamento del serbatoio pulizia del filtro basta dare una soffiata col compressore alla parte tagliente e una lubrificata abbiamo finito non dobbiamo fare nient'altro e di conseguenza un tagliasiepe a batteria non richiede nessuna manutenzione ordinaria candela filtro eccetera o straordinaria fasce cordicella che si rompe eccetera e considerate che in base all'uso che ne fate in base alla frequenza con cui utilizzate uno o più attrezzi in un periodo più o meno breve un anno due anni tre anni già ammortizzati i costi anche perché come vi dicevo prima sia se lo fate per hobby che se siete dei piccoli professionisti o anche dei professionisti non è necessario avere una batteria per ogni attrezzo e a meno che non avete una squadra di dieci persone non utilizzerate mai dieci attrezzi contemporaneamente ma vi potete dotare di un numero di batterie necessarie a permettervi di lavorare in continuazione mentre l'altra sta caricando quindi direi tre direi tre e poi avere dieci dodici quindici attrezzi diversi che anche se lavorano in continuazione lavorano comunque sempre uno alla volta e quindi da quello se poi andate a vedere il costo il costo totale rispetto a quello stesso numero di attrezzi a scoppio vedete che c'è anche un risparmio detto questo forse l'ho fatta più di 60 secondi concentriamoci su questo modello avviciniamo la telecamera e vi faccio vedere come è fatto allora prima cosa facciamo una veloce panoramica della batteria le batterie ego sono batterie da 56 volte con indicazione dello stato di carica questa è scarica quindi stato di scarica di diverso amperaggio questo questa è un regnetto questa è da 4 am per ora ma ci sono batterie se non sbaglio fino a 12 am per ora e con questo tipo di attrezzo potete utilizzare anche gli zaini a batteria se dovete fare lavori molto lunghi e preferite avere anche il tagliasiepe più leggero privo del peso della batteria esiste quella possibilità di utilizzare una batteria a zaino collegata con un gavetto che si mette al posto della batteria quindi avrete anche il tagliasiepe più leggero a proposito di peso vediamo quanto pesa senza batteria allora lo sto tenendo solo in equilibrio 3 kg e 8 se consideriamo di utilizzarli invece con la batteria da 4 am per ora 3 kg e 8 più 2 2 che rispetto comunque ai tagliasiepi con motoroscoppio c'è anche un bel risparmio di peso la batteria ego 56 volte arc lithium è una batteria che sfrutta due tecnologie importanti e molto efficaci e le celle sono messe ad arco così come vedete la forma della batteria per migliorare la dissipazione del calore oltre a questo all'interno ogni celle rivestita da un materiale che sfrutta il passaggio di stato per dissipare ancora meglio il calore generato dalle batterie perché come sapete la batteria al litio quando si carica o quando si scarica molto velocemente si riscalda questo fa sì che la batteria possa continuare ad alimentare il nostro attrezzo anche nei lavori più intensi ma nonostante ciò è pure dotato di un sistema che protegge la batteria dal suo riscaldamento e l'utensile dal sovraccarico quindi se per qualche motivo questo sistema non dovesse bastare va in protezione così evita di rovinarsi come vedete qui ci sono delle feritoie che servono a dissipare anche il calore e come vi ho fatto vedere nell'altro video i caricabatterie che sono rapidi possono caricare la batteria molto velocemente perché come vedete qua hanno una ventolina dedicata per il raffreddamento della batteria stessa in fase di carica la batteria si sgancia semplicemente con questo tasto qua verso il basso e si sgancia la plastica usata per questo tipo di attrezzi è molto resistente lo sentite dal rumore proprio è veramente piena molto spessa quello che vedete di nero è gommato abbastanza aderente si utilizza con i guanti lo sto per ora utilizzando a mani nude ma anche con i guanti ha un buon grip doppio sistema di sicurezza per l'avviamento accidentale questo è grilletto che ci consente di avviare la rotazione del motore ma come vedete non la posso premere perché dobbiamo premere prima questo sistema di sicurezza sulla parte alta ok ma il motore non parte perché bisogna andare a premere dobbiamo andare a chiudere l'altro contatto che si fa premendo quest'altro interruttore di sicurezza che è così grande perché lo possiamo premere così così e così quindi una volta che premiamo il primo sistema di sicurezza secondo sistema di sicurezza possiamo avviare la rotazione del motore questo sistema ci consente di poter tenere il nostro tagliasepe anche in questa posizione questo anello qua ci consente di poter ruotare la parte dell'impugnatura principale di 45 o 90 gradi guardate che bello per poter adattare il nostro tagliasepe al lavoro che stiamo facendo questo che state vedendo qui è il carter del motore in alluminio contribuisce anche a dissipare la temperatura generata dal motore brushless oltre a questa lette da questa parte troviamo il sistema degli ingranaggi anche se in realtà non sono degli ingranaggi ma sono degli eccentrici che trasferiscono il movimento del motore con un riduttore quindi in realtà il motore gira ma farà meno fatica alle doppie lame ora stiamo attenti perché abbiamo levato la protezione perché le lame sono a doppio effetto vi faccio vedere ora sono perfettamente allineate che se lo dovevo fare apposta non ci riuscivo ok lama superiore lama inferiore si muovono entrambe capacità di taglio 33 mm qui vediamo una protezione piccolina per non rischiare contatti con la lama anche se vi faccio vedere non appena si non appena si rilascia uno dei due consensi all'avviamento il motore smette di ruotare immediatamente non ha un'inerzia che ci può consentire di andare a toccare mentre sta rallentando si ferma immediatamente poi cosa vediamo un selettore della velocità di rotazione del motore prima velocità seconda velocità avete notato che la seconda velocità non l'ha raggiunta immediatamente questo a causa di questo riduttore del normale è consigliabile toccare la siepe solo nel momento in cui si è raggiunta la velocità massima altrimenti potrebbe rischiare dei rallentamenti però vedrete nel video che io sbagliando questa cosa che ho appena detto certe volte non l'ho fatta ma questo taglia siepe proprio problemi non ne ha avuti completamente ritorniamo davanti parte frontale tolgo la batteria per sicurezza parte frontale vediamo una protezione della punta che ci consente di tagliare ad esempio parti della siepe che sono vicine a muretti a pali senza rovinare sia il muretto e il palo qualsiasi altra cosa quella che può essere alcuna rete ma senza rovinare soprattutto la lama del nostro taglia siepe lame peraltro tagliata laser rimettiamo la nostra protezione e andiamo a fare qualche prova in modo che vi posso far vedere come lavora anche se nella mia siepe non ho incontrato rametti vicini al limite massimo dei 33 mm però qualcosa vicino ai 20 cm l'ho incontrata e devo dire che l'ho sentito dal rumore che ha incontrato qualcosa di più grosso ma non ho avuto nessuna difficoltà considerando anche che ho lavorato quasi sempre alla prima velocità potrei dire per il 70 per cento della durata del video e con la batteria da 40 per ora ho fatto quasi 100 metri lineari di siepe facendo prima la parte superiore poi la parte laterale poi le due parti di sotto e poi le diagonali per non lasciare lo spigolo ho fatto anche un po' un pezzo di rampicante e il risultato è quello che vedete qua dalla batteria completamente carica a una tacca di batteria quindi anche come durata non mi posso lamentare va bene dai andiamo a vedere come lavora solitato 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie. Grazie. Allora ragazzi, conclusioni. Non avevo dubbi sulla qualità di questo tipo di tagliasiepi, ma prima di fare il video l'ho usato abbondantemente. Anche perché oltre alla parte registrata poi ho fatto tutto il resto dei lavori che avevo bisogno di fare perché era quasi sei mesi che non facevo niente a casa e si è comportato benissimo. L'unica cosa di cui ho sentito la mancanza è la classica pinna qua sopra che mi consente di buttare tutte le foglioline fuori dalla siepe piuttosto che poi doverci ripassare con la mano. Questa è l'unica cosa che migliorerei o accessorio che proporrei a Ego di sviluppare, se è possibile svilupparlo. Ma per il resto non ho nulla da dire. La batteria dura tanto, potentissimo, silenzioso e secondo me vale quello che costa. Va bene ragazzi, in descrizione tutti i link utili riguardanti questo tagliasiepe dell'Ego e tutta la gamma Ego Power. Link del distributore Brumar. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao! Ciao!